Tre governatori insieme in Abruzzo non si vedevano da vent'anni. Il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, e il presidente della regione Molise, Donato Toma, sono stati ospiti a Pescara del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Non è potuto intervenire il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, perché impegnato nella gestione dell'emergenza Covid. Obiettivo dell'incontro tra i governatori, quello di un'intesa sulla dorsale adriatica. Innanzitutto le ferrovie, mentre lungo il terreno i treni corrono a 300 chilometri orari, lungo l'adriatico non si raggiungono nemmeno il 200, poiché occorrerebbe un ammodernamento della linea. Non solo trasporto su ferro, però anche l'autostrada subisce un gap in confronto alla costa occidentale. Sulla A14, infatti, dall'Abruzzo in giù non esiste la terza corsia. E poi vi è la questione degli aeroporti e dei porti, così da intensificare i rapporti con l'area balcanica. Firmato il protocollo d'intesa sullo sviluppo infrastrutturale della dorsale adriatica, le regioni dell'adriatico, dicono i governatori, non possono più subire quello svantaggio competitivo con altre regioni italiane. Ma l'ultima parola spetterà a Roma, che deve decidere gli investimenti prioritari e ha il compito di intercettare e redistribuire i fondi europei. È ovvio che mentre ormai da qualche mese si prospetta questa possibilità di una pioggia di investimenti e di miliardi che dovranno permettere all'Italia, nello stesso tempo, di rispondere alla crisi economica provocata dalla pandemia e a fare di necessità virtù, dotare e colmare il ritardo infrastrutturale, noi stiamo prendendo l'iniziativa per far capire che se c'è un pezzo dell'Italia che questo ritardo infrastrutturale ce l'ha più profondo e più marcato rispetto al resto è esattamente la dorsale adriatica centro-meridionale. Voi sapete che l'alta velocità e l'autostrada, la 14, praticamente oggi rappresentano un limite molto importante per le nostre regioni, soprattutto per Marche e Abruzzo, con tutti i problemi che si sono riscontrati sui viadotti, che si sono riscontrati negli ultimi due anni, c'è stata proprio un'interruzione sulla dorsale della capacità di rispondere alle esigenze delle comunità locali, delle economie, delle imprese e credo che questo limite sia un limite che vada progettato e vada superato. Noi ci poniamo non in contraposizione col governo ma in posizione dialogante, dovrà ascoltare quali sono le esigenze e i bisogni di quest'area vasta, di questo territorio, dovrà necessariamente in questo momento in cui si parla di investimenti, mega investimenti infrastrutturali, recovery fund e quant'altro, dovrà necessariamente venire incontro alle esigenze infrastrutturali di quest'area. Grazie 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 Grazie